Ciao a tutti e bentornati in una nuova gara da malati Allora siamo in cinque e ci devo anche salutare il loro genna youtube di un canale youtube E vi invito a non adorarlo per un bel canale Allora metto il link in descrizione del canale Allora punti via E questo va davanti comunque che vedete con la T20 Allora Vediamo com'è sta gara Sono 18 checkpoint 2 giri Boh vediamo Oddio che cazzo è roba No cazzo Riavviamo velocemente perché sono caduto Che casino Vinci nooo Sul più bello Allora piano Ma porca di quella troia Non è difficile ma è una traiettoria che ti inganna a un casino Allora piano E proviamoci Dai 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 che stavolta ci riusciamo Eh che cazzo Finalmente Siamo terzi Abbiamo buttato via un casino di tempo Abbiamo buttato via un casino di tempo Sei stato adottato da Lollo Genna Bravo Lollo Andiamo a meno a prendere il secondo Allora Che non è a 10 secondi mai circa Allora Iniziato il secondo giro Allora Allora Siamo comunque ancora terzi E proviamo a non fare ancora cazzate Sulle 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 acrobazie di prima Che stavano andando benino Allora C'è ancora gente qua ferma Allora Dai Ci facciamo Dai Dai No Cazzo di niente Allora Allora Mannaggia cazzo città Non ci credo Non ci credo Per l'ennesima volta Dai Oh che cazzo Finalmente Come siamo quarti Come siamo quarti Non ci credo Dai Ma porca di quello è clero Vabbè C'è un terzi Quarti Vabbè Ah ecco terzi Come Come eravamo prima No 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 Terzi Bella gara Dai Allora Continuiamo con altre gare Metto il link Comunque come detto prima Del canale di Lollogenna E andate a vederlo Andate a vederlo Vi tengo a salutare Lollogenna Youtube Andate a vederlo su Youtube Metto il canale in descrizione E nonna mia 2C34 Gianluca San Nino Allora Facciamoci la seconda gara Allora Allora Gare senza collisioni In 4 Pronti 3 2 1 Via Allora Partenza veloce Bagliateci più veloci di me Com'è qua Com'è Porca puttana Ok Finalmente Andiamo 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 Allora Com'è cazzo E' sta roba Easy proprio Ok Perfetto Ok Si torna indietro Siamo Stra in ritardo su tutti Ma andiamo a recuperare qualcosa Ok Andiamo 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 Veloci Ok Andiamo a recuperare gli altri due che sono davanti 8 secondi Non è impossibile Sperando che facciano errori secondo giro iniziato ok dai si torna giù mannaggia vai 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 un secondo nonna mia è in testa ciao Gianluca allora occhio che do di merda ok ok sono caduto cazzo merda fare una cazzata ero pure stavo pure andando bene porca di quella troia ehi ciao per fortuna che l'hanno fatto con collisioni se no sarei fregato allora siamo ancora terzi come lo eravamo prima iniziamo il terzo giro allora dai dai stavolta non facciamo cagate e adesso va non riesco a aprire con me se un secondo allora l'allogenna avrà fatto qualche cazzata e il computer mi dà che se un secondo ok giù 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 ok bella lì tutti ok andiamo a concludere sta gara da secondi bella tutti mettono anche il link di questa allora eccoci qui la terza gara ci tengo a salutare a Genghina che sarebbe Francesco Giolardino l'allogenna ancora poi scusate sono troppi i nomi Gianluca Sannino e Iloganeto e poi io buona visione allora gara con la moto con collisioni ma ho più pari di come cazzo sia sta gara da punto a punto 3 2 1 via 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 sono 17 checkpoint ok andiamo qua chi è col figlio di troia che mi ha ucciso non l'ugina ti ammazzo allora allora si sale di qua si sale piano 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 oh qualcuno è caduto e infatti ok siamo terzi ragazzi piano 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 ok preso ok qualcuno è caduto no cazzo no ma porca di quella puttana no ragazzi no ok finalmente ci siamo riusciti dopo mezz'ora ok qui ci siamo ok giù di qua adesso se non c'è che point l'ho saltato cazzo ok dove mi ha buttato ha caricato malissimo e vabbè comunque da ultimi da ultimi siamo tornati terzi ok porca mica la miseria mi ha buttato via un sacco di tempo ok adesso si torna dove non ti da neanche un'indicazione quindi è un po' vago tutto qua ok 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 che ho preso cazzo di niente di niente ok siamo atterrati ok adesso siamo secondi piano 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 ragazzi piano 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 ok 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 siamo secondi perfetto allora qui piano piano ragazzo ok ho preso preso ragazzi preso siamo arrivati qua ok il checkpoint dove cazzo è ok devo andare qua a sinistra molta calma ok un po' di rincorsa sono momentaneamente primo saluto l'orlogenna non ci credo non ci credo l'ho saltato l'ho saltato ragazzi l'ho saltato ok ok l'ho ripreso l'ho ripreso porca troia che fatica mi sa che serve più rincorsa ok più rincorsa possibile l'ho l'ho genna è passato in vantaggio grandissimo vincendo sta gara e vai preso grandissimo l'ho l'ho genna di poco cazzo potevo vincermi questa gara mi è anche dispiaciuto e si va secondi bella raga spero che questo video vi sia piaciuto vi chiedo solo di lasciare un like ci vuole solo un secondo metto tutte le gare fatte in link in descrizione così potete aggiungere fare anche voi e risaluto l'ho l'ho genna e andate a vedere il suo canale in descrizione sotto grazie per il suo video che mi state dando ciao alla prossima